Eccoci qui, buongiorno ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di Covid, degli effetti riguardanti il Covid in particolare sulla scuola. Parliamo con un uomo di scienza, un esperto, un biologo. Parliamo del professor Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e docente anche di Biologia Molecolare presso l'Università degli Studi di Pavia. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Bene professore, noi ci siamo sentiti un anno fa quando praticamente era la vigilia del lockdown. Lei ci disse che praticamente eravamo un po' aperti a tutti gli scenari e poi sappiamo com'è andata a finire. Qual è la differenza a distanza di un anno rispetto al rapporto della popolazione rispetto al Covid? Ci sono almeno tre differenze fondamentali. La prima, siamo in grado di gestire meglio la malattia. Abbiamo imparato molte cose, abbiamo riorganizzato gli ospedali, i centri di assistenza. Non siamo quindi più, come dire, completamente presi di sorpresa come durante lo tsunami di marzo-aprile dell'anno scorso. Abbiamo, secondo punto molto importante, i vaccini e quindi stiamo procedendo ad una campagna che ci metterà in sicurezza quando sarà completata. Il terzo punto è che forse quello un po' meno positivo rispetto a quello che diceva lei, il rapporto della popolazione, è che si evidenziano diversi atteggiamenti. C'è sicuramente una stanchezza di fondo, perché la società è stata approvata duramente sia dal primo lockdown che poi dalle successive continue restrizioni, dovute di fatto a una circolazione del virus che non si è mai interrotta. E quindi da questa stanchezza a volte derivano anche comportamenti, se non di rifiuto, comunque di diffidenza a volte rispetto alle iniziative, alle misure che devono venire imposte. Quindi c'è disorientamento, c'è confusione anche riguardo adesso ai vaccini e quindi una cosa molto importante su cui dobbiamo lavorare oggi è soprattutto la comunicazione, fare capire alle persone qual è il rischio e quali sono le misure per poterlo ridurre. Professore, lei una cosa che ci disse l'anno scorso è che fino a 30 anni di età, quindi giovani, sono praticamente esenti da evoluzioni gravi del Covid. Possiamo dire che è ancora così anche con le varianti? Allora, ovviamente noi ci riferivamo a quell'epoca ai dati che venivano dall'epidemia in Cina fondamentalmente. Adesso noi abbiamo un panorama purtroppo molto più esteso, variegato di tutti i paesi del mondo. Ancora oggi possiamo dire che le persone che più probabilmente sviluppano sintomi gravi sono quelle esatto dai 25 anni in poi, 30 anni in poi, con un aumento di questo rischio con l'età. Si considera di fatto la popolazione veramente a rischio di conseguenze gravi nelle persone superiori ai 50-60 anni. Quindi ancora oggi i giovani normalmente hanno delle conseguenze meno gravi, addirittura molti sono asintomatici, ma non è una regola generale. Dipende ovviamente da persona a persona. Ci sono patologie preesistenti, cardiocircolatorie, diabete, patologie respiratorie, che indipendentemente dall'età possono portare a dei sintomi gravi. Per cui, diciamo, nessuno deve sentirsi completamente al sicuro e quindi nessuno deve trascurare le regole di progetto. Professore, lei collabora anche con delle case editrici, ho letto che sviluppa, realizza dei testi, anche per le scuole superiori e si reca periodicamente presso le scuole. Ma andare in una scuola oggi è pericoloso piuttosto che recarsi in un altro luogo pubblico perché c'è la presenza di giovani particolarmente contagiosi oppure è un luogo comune? Cioè la scuola alla fine non è pericolosa da un punto di vista dei contagi? Facciamo una premessa. Oggi c'è uno scenario leggermente diverso rispetto a qualche mese fa perché circolano varianti un po' più contagiose, ma sono contagiose per tutti. Non hanno una selettività verso la popolazione scolastica o ancora più piccola per i bambini. Semplicemente questa fascia di popolazione ha avuto meno casi, c'è meno immunità, diciamo. E quindi nel momento in cui il virus arriva in un asilo o in una scuola primaria rapidamente si diffonde perché trova dei soggetti completamente suscettibili. Però ancora adesso, numeri alla mano, possiamo dire che la scuola, l'ambiente scolastico non è uno dei maggiori diffusori dell'epidemia. I casi di infezione in ambito scolastico sono molto rari, le infezioni avvengono di solito fuori perché la scuola è un ambiente controllato. Quindi io ovviamente in questo periodo non posso recarmi in presenza nelle scuole ma faccio tantissimi interventi in questa modalità come stamattina ma so comunque che all'interno della scuola quando vengono rispettate le misure abbiamo un ambiente normalmente sicuro. Il motivo per cui oggi si sospendono le lezioni è proprio perché ci sono focolai all'interno della popolazione scolastica spesso che partono da fuori dall'ambiente sociale e della famiglia che ovviamente se importati in una classe possono comunque aumentare il rischio. Professore, quanto è importante che il personale della scuola in particolare gli insegnanti siano vaccinati? Tutte le persone che hanno un maggiore rischio di esposizione e che svolgono servizi essenziali dovrebbero essere vaccinate prioritariamente e in effetti la categoria degli insegnanti proprio per le peculiarità del loro lavoro e dell'ambiente in cui operano rientra tra le categorie che hanno una rilevanza particolare nella campagna vaccinale. Quindi è certamente importante e spero che questo venga completato il più in fretta possibile anche per poter garantire sempre di più una ripresa delle normali attività scolastiche. Professore, su questo punto però sa che negli ultimi giorni ci sono state delle polemiche, è stato anche introdotto un blocco delle vaccinazioni AstraZeneca. Ieri l'EMA ha ridato il via libera. A lei che idea si è fatto di questa situazione a seguito anche dei casi anomali di trombosi derivanti, forse perché poi è tutto da accertare appunto dalla vaccinazione dell'AstraZeneca? Per il mestiere le mie opinioni si basano sui dati. Noi avevamo già dati, ad esempio quelli della farmacovigilanza dell'AIFA che indicavano tre cose. La prima, che qualsiasi tipo di effetto collaterale grave o lieve che fosse, per tutti e tre i vaccini, incluso AstraZeneca, interessava meno dell'1% dei vaccinati. Quindi 90 persone su 100 che fanno vaccino AstraZeneca non hanno nessuna reazione. Le reazioni classificate come gravi, e per gravi ad esempio si intende anche la febbre a 39 per due giorni, rappresentavano una quota ancora più bassa, circa il 6% di quell'1% che manifestava le conseguenze. Quindi già sapevamo che c'era un profilo di sicurezza molto elevato. Il blocco è stato un atto dovuto, nel senso che si sono ritrovati dei casi molto rari, parliamo di uno su un milione in media di vaccinati, che andavano investigati. Le indagini hanno portato a concludere che non c'era nessun nesso causale. Io ricordo sempre, il rischio di trombosi per una persona infetta che va in ospedale può arrivare al 30%. In seguito alla vaccinazione, sempre che esista, è di meno di uno su un milione. E quindi già questa differenza ci deve fare capire quanto la vaccinazione sia importante per proteggerci. Professore, molti insegnanti ci stanno raccontando che comunque hanno avuto non delle reazioni particolarmente spiccate, gravi, ma comunque molto fastidiose. Diciamo che è un dazio da pagare, professore, per chi fa il vaccino AstraZeneca o in generale per chi si sottopone a un vaccino contro il Covid, avere della febbre, una forte senso di stanchezza, mal di ossa e un senso di spossatezza generale? Assolutamente sì, e di nuovo, sempre dati alla mano, non ci sono differenze significative tra AstraZeneca, Moderna e Pfizer rispetto alla tipologia e alla numerosità di questi effetti. È chiaro che si tratta di un disagio che può essere più o meno importante in una quota minoritaria dei vaccinati, che deriva dal fatto che il vaccino, per poter stimolare il nostro sistema immunitario, stimola anche il processo infiammatorio, che è quello che dà queste risultanze. Quindi febbre, mal di testa, dolore articolari, in alcuni casi anche nausea o vomito, che possono durare poche ore o pochi giorni, sono una conseguenza normale che può essere controllata, ma che si risolve senza lasciare strascichi. Ma il premio è che poi siamo protetti dall'infezione. Ecco, questo è il punto. La protezione però riconosciuta a livello scientifico si aggira al 60-70%, ma rispetto a cosa questa percentuale? di copertura. E soprattutto, possiamo dire ai nostri lettori, ascoltatori, che chi fa il vaccino sicuramente non andrà in ospedale, perché poi potrebbe comunque prendere il Covid, sicuramente non arriverà in una terapia intensiva. E questo è l'effetto, il messaggio che dobbiamo dare a chi si vaccina? Allora, innanzitutto c'è un dato che deve essere corretto, perché gli studi clinici che sono stati pubblicati meno di un mese fa riguardo proprio a AstraZeneca, indicano che dopo la seconda dose, dopo una settimana di incisione della seconda dose, la protezione è superiore all'80%, e già dopo la prima dose, nelle prime due settimane, si arriva a una protezione di oltre il 70%, quindi sono valori molto paragonabili a quelli di Pfizer e Moderna, superiori anche al vaccino Johnson & Johnson, che al studio clinico, vedremo poi la prova dei fatti, dimostra una protezione di circa il 70%. Protezione vuol dire, innanzitutto, protezione dalla malattia sintomatica, quindi diciamo che in 8-9 casi su 10, io se anche mi infetto non svilupperò sintomi. sappiamo anche che in circa 7 casi su 10 non mi infetterò proprio, quindi avrò un'immunità sterilizzante, e praticamente nel 100% dei casi, in biologia il 100% non esiste, ma possiamo dire praticamente nel 100% dei casi, le persone vaccinate non sviluppano forme gravi. Quindi i vantaggi della vaccinazione sono non soltanto di proteggere noi stessi, ma anche di evitare che, circolando, questo virus possa poi diffondersi ad altre persone e magari più frasi. Bene, dottore, professore, ci avviamo verso la chiusura. Noi abbiamo, tra gli insegnanti e il personale non docente della scuola, quasi 700.000 vaccinati. Ora, molti di loro, a seguito degli eventi, degli ultimi giorni, hanno manifestato una certa preoccupazione, ma possiamo dire che dopo 48 ore, 72 ore dalla vaccinazione, gli effetti collaterali praticamente finiscono, si esauriscono, non è che un effetto collaterale si può manifestare dopo diversi giorni. Su questo lei cosa ci dice? Oltre il 90-95% delle reazioni secondarie avvengono entro le prime 48 ore. Sono rarissimi i casi di manifestazioni che, diciamo, compaiono dopo una settimana o dieci giorni. Per cui, sicuramente, i primi due o tre giorni possono essere quelli più interessati, dopodiché, quando queste manifestazioni passano, le persone non hanno più nessuna conseguenza. soprattutto io invito tutti quelli che hanno già fatto la prima dose di AstraZeneca a sentirsi assolutamente tranquilli e soprattutto a fare la seconda dose quando sarà il loro momento. Perché, come dicevo, i vantaggi di questa vaccinazione sono enormemente superiori a qualsiasi rischio. Tanto per farci un'idea, il rischio di morte per una persona giovane, sana, che si infetta, che quindi ha già un basso rischio di avere una sintomatologia grave, è comunque superiore al rischio di avere un effetto grave dalla vaccinazione. Quindi, questo secondo me è un punto importante. Ma anche per gli over 55, perché c'è stato inizialmente un blocco fino a 55 anni, ci hanno detto le autorità sanitarie per la somministrazione dell'AstraZeneca. Poi, da qualche settimana, c'è stato anche un via libera. Lei, su questo punto, cosa ci dice? Qui c'è stata purtroppo un po' di confusione comunicativa, uno di quei punti che ho toccato all'inizio. Bisogna essere bravi a comunicare alla popolazione i motivi di certe scelte. Allora, la prima limitazione dell'età derivava esclusivamente dall'impostazione degli studi clinici. Negli studi clinici per l'AstraZeneca erano stati incorporati pochi soggetti superiori ai 55 anni, che mostravano beneficio, mostravano resistenza all'infezione, non mostravano effetti collaterali superiori, ma numericamente, quando si tirava la riga sotto la statistica, non davano un valore abbastanza significativo da poter essere incorporati nelle raccomandazioni. Poi, andando avanti nella campagna vaccinale, rivalutando attentamente i dati, EMA e quindi poi AIFA e le varie agenzie, hanno stabilito che in realtà il vaccino, come sembrava, era efficace anche per le fasce di età superiori, da qui la raccomandazione di utilizzarlo anche per gli altri. Questo è stato percepito dalla popolazione perché non spiegato come un cambiamento in corsa magari non giustificato e quindi la gente si chiede ma c'è un rischio? No, non c'è nessun rischio. AstraZeneca è efficace anche nelle persone sopra i 55 anni. Bene, un'ultima domanda che fa un resoconto rispetto appunto a quello che ci siamo detti oggi. Cosa prevede per le prossime settimane e per i prossimi mesi? Insomma, è difficile, capisco, rispondere, però ecco, i nostri lettori vorrebbero capire se andiamo verso di nuovo una recrudescenza dei dati oppure se invece si è toccato diciamo l'apice e quindi se poi pian pianino si potrà tornare alla normalità subito dopo Pasqua magari anche riaprendo le scuole. Lei come la vede? Allora, noi abbiamo avuto un aumento abbastanza repentino diciamo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Adesso la circolazione è ancora molto elevata ma non ha più questo andamento così, come dire, ripido. L'incidenza all'interno della popolazione al solito rapporto positivi i tamponi effettuati rimane più o meno sempre allo stesso livello. Quello che però vediamo è l'ingresso sempre diciamo così in aumento di persone nelle corsie quindi nei ricoverati e nelle terapie intensive che sono l'esito delle infezioni di 15 giorni fa. Allora, adesso se le misure avranno efficacia e questo dipende soprattutto da noi non mi aspetto un aumento ancora consistente la situazione dovrebbe normalizzarsi e col proseguire della campagna vaccinale dovremmo vedere calare i contagi i ricoveri e i morti. L'arco temporale con questo succederà non sarà breve per cui io penso che almeno fino all'estate ci potrà essere ancora la necessità di mantenere un livello di vigilanza abbastanza alto ma posso anche essere smentito domani se i numeri ovviamente miglioreranno in maniera significativa. Io credo che dall'estate in avanti lo scenario potrebbe cambiare in maniera positiva e abbastanza decisamente ma dipenderà molto dalla campagna vaccinale. Quindi anche la scuola rientra in questo ambito ovviamente quindi anche dobbiamo aspettarci ancora fino alla fine dell'anno se questa previsione verrà avvalorata dai fatti una diciamo un'apertura a singhiozzo ancora una didattica a distanza immagino, no? Io personalmente ritengo che le scuole dovrebbero riaprire il prima possibile questo però dipende sempre dall'incidenza dell'infezione quindi in zone ad alta circolazione di virus qualsiasi attività aggregante scuola inclusa con tutti i parametri di sicurezza però ovviamente deve essere controllata quindi se diciamo la situazione dovesse migliorare ecco il mio auspicio è che si riprenda la didattica in presenza perché sappiamo bene quanto sia complicato mantenere la DAD per lungo tempo Bene ringraziamo il professor Giovanni Maga e la disturberemo di nuovo speriamo in momenti più tranquilli e meno fastidiosi per la popolazione grazie ancora professor Maga grazie a voi grazie a tutti